Ottavo episodio di Katia! Ma chi l'avrebbe mai detto? Tutti perché ormai stiamo andando avanti con questi episodi Ormai è così Non regge più questa intro, dovremmo cambiarla Dovrebbe esserci un piccolo jingle Allora di Katia, allora di Katia Ti distorcerà la mente con i suoi discorsi Katia Si basta però per lungo così A proposito di jingle vogliamo parlare di RTL 125 Napolet La più bella scoperta di questo weekend Esiste una sottoradio di RTL 125 Ogni giorno 807 milioni di italiani ascoltano RTL 125 E alcuni di loro ascoltano anche RTL 125 Napolet Che è molto bella È molto bella Perché è solo canzoni Napolet Solo neomelodiche Non sto bello molto come bello Non sai che faccio Così stai offendendo l'arte del neomelodico Del neomelodicismo E la cosa bella è che il jingle di RTL 125 Napolet È quello di 125 ma fatto un po' al mandorino Non gliene frega niente nessuno Però noi vorremmo porci come principale competitor di radio RTL 125 Napolet Ma perché non c'è tipo radio 125? Venetengo è tutto Come canzoni c'è Marietta Monta in gondola Sì o Gianni Dego Gianni Dego Abbiamo mai parlato di Gianni Dego? Io volevo farci una puntata di rubrichette Ma poi dobbiamo ancora parlare di rubrichette Gianni Dego è uno di quei cantanti di Liscio da Sagra Che trova il sale Però lui è il principale del Veneto Esatto è come dire Laura Pausini Laura Pausini è la principale È la principale Delle cantanti italiane Di Liscio No di pop Di pop No lei fa musica leggera Pop Musica leggera secondo me Cosa fa Laura Pausini? Faticelo sapere nei commenti di qui sotto La gente ascoltandoci dirà Ma è un podcast Non ci sono i commenti Ma chi ascolta Katia Deve sapere che c'è anche il video podcast su YouTube Hai visto che collegamento leggerissimo Perché noi le robe semplici No quindi se andate sul canale YouTube Edoardo Zaggia Trovate anche le puntate di Katia Dove ci potete vedere In questo momento Noi ci siamo dati una lavata Una pettinata Abbiamo indossato i nostri vestiti migliori Per essere anche presentabili in video Ma questo chi ci ascolta Non è un problema suo Perché anche chi ci sta vedendo Può dire Beh ma io vorrei ascoltarli e basta E allora ci va ad ascoltare su Spotify Apple Podcast E Amazon Music Wow Che professionalità Professionalità Come stiamo? No stavamo parlando di Gianni Dego Gianni Dego È di quelle persone Con la calvizia Sulla parte sopra della testa E poi però ha dei boccoli platinati Che gli scendono sulle spalle E ha sempre degli outfit fantastici Ha delle giacchette Io sono famoso per le mie camicette Non credo proprio Lui è famoso per le sue giacchette Molto di più Perché vi parlo così tanto Delle giacchette di Gianni Dego Perché le giacche di Gianni Dego Lui andava a ordinarle Da mio nonno Sardo Veramente I miei nonni avevano una sartoria Non facevano quelle cose tutte con le paillette Però le ordinavano a un fornitore esterno Quindi ci caricavano su Quindi stavano facendo Gianni Dego Beh senti Se bisogna fottere qualcuno Tanto vale che si fotta Gianni Dego Nuovo episodio di Katia Ottavo Otto come simbolo dell'infinito Come simbolo di unione Facciamo l'otto con le nostre mani Per chi ci guarda Guardate qui che bell'otto Devi fare così In una nuova casa Primo episodio nella nuova casa Chi ci segue sui social sa bene che abbiamo cambiato casa Potrebbe esserci dell'eco nel microfono Sì perché siamo in una stanza con un soffitto molto alto E mancano ancora le tende, i cuscini Le cose che le renderanno un boudoir Vi attaccato E sentite Cioè io Raga A volte guardate delle cose Io lo so Che hanno una qualità veramente infima Noi comunque manteniamo un certo rispetto Quindi non ci viene Nessuno ci ha detto niente Ma non ci venite a dire niente Vabbè cominciamo Cominciamo Allora io mi sono segnato una cosa da dire A inizio di questo ottavo episodio di Katia Se ci pensi Tutti i podcast Sono delle Katie Ah sì totalmente Perché La gente sproloqua esattamente come farebbe Katia Cioè Quelli che fanno i podcast sui bitcoin O sui libri In generale chi fa i podcast non sta molto bene Non sta bene Cioè ha bisogno di parlare per mezz'ora di qualcosa Mezz'ora Ma che podcast Ma che podcast Ascolti Io li becco da un'ora 40 minuti Non stiamo bene La gente sta fuori da ogni grazia di Dio Quindi questa era la prima cosa che io volevo mettere in chiaro Grazie Prego Ma come stai in questa casa nuova? Io sto bene Io sto bene in questa casa nuova Tu come stai in questa casa nuova? Sto bene Soprattutto perché sono diventato mamma Possiamo dirlo ufficialmente Perché ho avuto questa folgorazione La mia passione per le piante Mi ha reso genitore E ho comprato delle nuove piante Adesso le piante sono la mia vita Devo dare da bere Devo fertilizzarle Tu stai passando sotto in graduatoria Le fertilizzi tu col tuo concime naturale Devo capire quali sono le loro condizioni migliori di luminosità Capire come si riproducono per talea Non ti interessa veramente capire come si riproducono le piante Non dire cosa a caso Alberto questa mattina in palestra stava Invece che ascoltare la musica Stava guardando il video di una che rinvasava una talea Ma tu non sei madre Tu non puoi capire Ma sono madre anch'io Le abbiamo comprate assieme col conto in comune queste piante Come si farebbe con un bambino Per la gente della nostra specie Però sai che c'è sempre un genitore che dà più attenzione al bambino e uno meno? Io sono madre di queste piante Io sono il padre che ogni tanto compra un vaso nuovo I vestiti dai chanam Gli dice andiamo a spendere 150 euro dai chanam Gli compra il fertilizzante quello buono Vabbè me lo tengo amico Invece vedevo un po' a educare A avere un po' di fertilizzante ma non troppo Perché devono anche imparare a stare da sole Perché fuori da quella porta il mondo È da una giungla Va bene E così insomma Alberto voleva dirci che si è comprato delle piante Fra l'altro secondo me è anche qualcosa legato al fatto che Tendenzialmente sappiamo di non poterci riprodurre Sì sì totalmente Facendo quella cosa che fanno le coppie Sessuali Di infilare il vermino nel buchetto Un bambino Quindi tu ti trovi bene Anch'io mi trovo bene Possiamo andare al succo della questione Invece di stare qui a parla di cacate Andiamo 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 Alberto oggi stava anche perdendo il telefono in palestra Vabbè dai non c'era Mi ha chiamato fermare tutta la palestra come una vera Katia Ha detto Ma dove è il telefono? Me l'hanno rubato Nel frattempo aveva le cuffiette con cui sentiva la musica Quindi non gliel'ha chiaramente rubato Come una vera Katia Ha bloccato C'erano quattro istruttori Ma mia che esagerato di merda Ad altre tante Katia Perché non so se le hai viste in palestra Ma dove andiamo noi in pale raga Ma quel signore che abbiamo in palestra Io le amo veramente Ma quella di oggi che aveva messa in piega Sì Capello sciolto messa in piega A fare gli esercizi Io guarda che io vorrei diventare così nella vita Non aspiro ad altro Dobbiamo chiuderci un paio di cellule sudoripare Perché io se faccio una cosa così con un capello lungo Dopo 30 secondi Bottolino sotto le ascelle Cosa dobbiamo dire? Eh che io vorrei farmelo Allora forse la gente non sa Che si possono fare le iniezioni di bottolino sotto le ascelle Che bloccano la sudorazione Perché il bottolino fa Atrofizza Se lo fai sulle ascelle Non sudi più C'è anche gente che lo fa anche su Sulle mani Sui piedi anche Sui piedini Sui piedini puzzolini Sui piedini pedo No perché io ho avuto una specie di illuminazione Hai presente San Paolo Folgorato sulla via di Damasco Era San Paolo? Era qualcuno Era qualcuno Ehi Siri Che è stato folgorato sulla via di Damasco Non ho capito Ok Edoardo Ho trovato alcuni risultati sul web L'indio su iPhone Grazie San Paolo San Paolo San Paolo Come San Paolo folgorato sulla via di Damasco Anch'io ho capito che Non è l'estate Perché mi ha chiamato per nome Siri scusa? Cosa voleva dire? Voleva un po' mettermi i piedi in testa? Tipo so come ti chiami? Diceva nome e cognome Come mia madre quando è arrabbiata? Sì o no? Di solito non ti dice mai Ok Edoardo Dimmi la verità Posso Poi sei San Paolo sulla via di Damasco Ho realizzato che il mio problema con l'estate Non è l'estate Ma è il sudore di ascella sulle magliette Questo è il mio grande problema con l'estate Solo? Sì Cioè il tuo unico problema dell'estate Se io non potessi più sudare dalle ascelle Non odierai l'estate come invece odio Fra l'altro secondo me tu sbagli tecnica Perché c'è un modo di tenere le ascelle In modo che non sudino Tipo stare sempre con le braccia un po' larghe E tu non lo fai E che sono la Rottermeier Vabbè qualcun altro ha questo problema Fatecelo sapere nei commenti Qualcun altro su dalle ascelle d'estate Fatecelo sapere nei commenti di qui sotto Guarda che stiamo diventando veramente Domenica Inn Com'è che è? Adriana Volpe Vi piace bere l'acqua? Chiamate il centralino E raccontateci le vostre esperienze con l'acqua Sinceramente se questa è la via per il successo Light it be Dobbiamo essere la prossima Adriana Volpe Sì magari Io Adriana Volpe Cos'è successo questa settimana? Abbiamo fatto l'ultima puntata di rubrichette Prima della pausa estiva La gente l'ha presa un po' male sinceramente Ma c'era da aspettarselo È una cattiveria sinceramente Fra l'altro hanno detto Proprio nel mese del Pride Vi siete Oh buon mese del Pride Primo episodio di Katia durante il mese del Pride Non a caso ho scelto questa maglietta E questa collerina un po' rainbow Tu invece cosa hai fatto per il Pride questa giornata? Dimmi Io mi sono svegliato omosessuale Già questo mi sembra E sono sopravvissuto fino all'ora di pranzo Fino a questa età Io vorrei sottolineare una cosa Rubrichette si ferma proprio nel mese del Pride Perché rubrichette è queer tutto l'anno Rubrichette è gay tutto l'anno Nel caso non ve ne foste d'accordo E il mese del Pride Si riposa Lo prende per se stessa Sì E lascia andare avanti gli altri Guardiamo cosa fanno le altre persone Vediamo dai Faranno cose altrettanto omosessuali come rubrichette Uno dei temi che vorrei affrontare oggi è il fermarsi Il fermarsi ogni tanto Perché ci siamo fermati con rubrichette Che è il nostro progetto principale Perché è arrivato un progetto secondario Ci siamo guardati negli occhi E abbiamo detto dobbiamo prenderci una pausa da rubrichette Per portare avanti quest'altro progetto Ci siamo fermati completamente No abbiamo detto c'è la nostra carissima Katia Che è sempre ben voluta nelle case degli italiani e delle italiane Quindi Alberto ti voglio chiedere Parlami di una volta che non sia questa In cui hai dovuto terminare qualcosa Molto probabilmente per la tua sanità mentale e fisica Terminare un'amicizia Terminare un lavoro Terminare una persona Nooo Terminare Allora mi vengono in mente molti Che suono gay di pistola Una pistola delle Polly Pocket Laser Ho dovuto terminare un lavoro per il mobbing Però questa forse è una storia triste Non l'abbiamo mai parlato a Katia Non l'abbiamo mai parlato ma non credo meriterà di essere parlato Katia Intanto non abbiamo mai parlato di che lavoro fa Katia Ma Katia secondo me fa mobbing a lavoro Involontario sì Fa tipo piccoli sequestri di persona Forse quella che mi faceva mobbing a lavoro era No non era una Katia Era solo una Era una Hitler Una Mussolini in realtà Perché aveva anche tendenze fasciste Ma non ne parleremo Si dice Si dice Si dice dal suo profilo Facebook Secondo noi Non possiamo No non possiamo E tu invece quando hai terminato? Allora A me viene in mente questo episodio Forse te l'ho già raccontato Che secondo me è il più grande errore della mia vita È stata la prima grande lezione che ho imparato Dopo l'altra lezione che era Fai finta di non essere gay Che poi ho disimparato a un certo punto Questa lezione era Scuole elementari Dalle nostre amatissime suore Potete trovare anche stampate nelle nostre magliette Perché ci hanno fottuto il cervello Elementari dalle suore A ricreazione andavamo tutti a giocare nel parco Che si chiamava parco baleno Si chiamava parco baleno stra gay come cosa E fra l'altro un nome gliel'aveva dato La Sara No l'Arianna L'Arianna La nostra amica Arianna E forse l'Anna Che era l'amica sua Che secondo me erano arrivate in terza elementare Ed erano tipo le ragazze fighe Che arrivavano da fuori città Perché arrivavano da Di Corovea E una ragazza new yorkese Però nella profonda campagna veneta Si In realtà poi ho scoperto che loro c'erano Dalla prima elementare Il fatto è che non avevamo fatto l'asilo assieme Quindi per me erano La novità E gli hanno dato il nome parco baleno E in realtà copiandolo da un altro parco In un'altra provincia E hanno vinto un concorso Gli hanno dato un premio Ma era tutta una finzione Loro hanno proprio mentalità new yorkese Pazzesca Si hanno detto Faking till you make it Ruba quello che puoi Rielaborano Ruba da un mercato Per inserire l'uno in un altro Per rubare le scuole pubbliche Per dare alle private delle suore Sinceramente ero venuta al contrario E così la vita comunque Cioè uno lo scopre di solito a vent'anni Loro l'hanno scoperto a quattro A quattro Pazzesco A Merinda quando andavamo a giocare nel parco baleno Facevamo un gioco Che io credo fosse di mia invenzione Però ora che ci penso Forse non era di invenzione di nessuno Si chiamava Come si chiamava? Serpente Si chiamava serpente Totale si chiamava serpente Questo gioco Ok Perché non lo so E cosa dovevi fare? Si giocava a prendersi Solo si giocava su una costruzione Sai quelle con i due castellini Il ponte E lo scivolo Niente Si giocava a prendersi Lassopra Proprio Leonardo da Vinci Io come loro Grande inventore Vabbè Se pensate questo gioco Serpente In pratica ci si prende Ma torna una costruzione Piaceva un sacco Un brand che vendeva un sacco Serpente Tutti volevano giocare a serpente Secondo me mandavamo anche via gente Perché dopo un po' Non ci stavi più Nella giostrina Ti ammazzavi Gioca a serpente un giorno Due giorni Tre giorni Dieci giorni A un certo punto La gente veniva sempre da me A dirmi Ah giochiamo a serpente Giochiamo a serpente E io un giorno Ho sbroccato Ho sbroccato E ho detto Basta Non voglio più essere il vostro capo Non voglio più essere il centro Del vostro universo Basta venire da me Per chiedermi di giocare a serpente Sono piena Veramente Così gli ho detto Non so se glielo ho detto proprio così Però mi ricordo che gli ho detto Basta rompermi i coglioni Non voglio più essere il vostro punto di riferimento Cioè io mi sentivo Un leader Che però Non aveva fatto le elezioni Era stato eletto dal popolo Io mi sentivo Come si chiama Mussolini No Come si chiama quella che ha interpretato Madonna Don Cry For Mi Argentina Io mi sentivo Evita Però Cosa è successo il giorno dopo Nessuno ha più voluto giocare con te Nessuno veniva più da me E beh per forza Perché eri uno stronzo Credo anche che giocassero senza di me Perché avevano capito Cioè non è che serviva qualcuno E lì ho detto Ai 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 Edoardo Eri su un palcoscenico Avevi una briciola di potere E l'hai buttato via Perché un giorno eri Un po' stanco Un po' innervosito Quindi tu dici Da quel giorno Sarebbe stato meglio prendersi una pausa Beh quella è stata una pausa Che però appena hai cominciato Ho detto No 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 Non andava presa Avrei dovuto assumere dei collaboratori No Da quel giorno mi sono detto Edoardo Se mai costruirai qualcosa Mai buttarlo via Mamma mia che discorso Ed eccoci qua Cosa ti devo dire Alberto Se tutti volevano giocare a serpente Hai fatto un discorso di 8 minuti Per non arrivare a un cazzo comunque Ma se ti ero raccontato Una bellissima storia Adesso la gente potrà giocare a serpente E insegnarlo ai propri nipoti L'altro non si è capito Come si gioca a sto cazzo di serpente In pratica Non ci porterà Sono nelle presenze Sì ho capito Quelle sostese Che hanno la scaletta da un lato Lo scivolo dall'altro Giocavi a prenderti Salendo e scendendo Fine Quindi cosa cambiava rispetto a un gioco normale Ce lo facevamo anche noi Ma non si chiamava serpente Devo chiedere Adesso chiedo alla Sara Se si ricorda come si giocava a serpente Ciao amora granda Scusa se ti disturbo Stai lavorando per caso Tu ti ricordi come si giocava a serpente Dalle suore E ti ricordi anche se l'avevo effettivamente inventato io come gioco Fammi sapere Grazie mille Ciao Ciò che non piacciono alla gente che lavora Per chiedere ste cacate Anche noi stiamo lavorando Eppure troviamo il tempo di contattare i nostri amici La Sara ha risposto Ciao Edo Sono arrivata stamattina a Milano E sto per iniziare a lavorare Mi ammazzerei Ma sai che io non ho idea di che gioco sia Non me lo ricordo assolutamente Provo a darmi qualche indizio in più Perché non mi ricordo né dell'esistenza Quindi tantomeno che tu fossi L'inventore Guarda Questa è chiaramente una calumnia ai miei danni Vorrei introdurre un altro argomento Il vicino Il vicino Un argomento un po' da Katia Perché riguarda il vicinato E mi sembra quasi dispettegolare Beh è super pettegolezzo Però no non è pettegolezzo Perché è un crimine È avvenuto un crimine Nei confronti di queste due persone Fra l'altro scorsa puntata Dicevamo truffa 700 euro Io questa gli voglio mettere il titolo Il nostro vicino è un ladro Abbiamo denunciato il nostro vicino Il nostro vicino ora è in carcere Per colpa nostra Cioè voglio una roba del genere Perché raga Partiamo dall'inizio Un po' di tempo fa Esce la puntata 100 di Rubricchette Con tutte le sue complicazioni varie Che non staremo qui a rielencare Esce la puntata 100 In cui lanciamo anche delle bellissime Magliette Felpe Tazze E stampe Con la coccarda Che ho scritto 100 Disegnata Dalle Enrique Enrique Illus Su Instagram Le mettiamo nello shop Mi scrive in privato La nostra cara amica Cristina Fogazzi L'estetista cinica Cristina mi dice Ne voglio una Non ho voglia di comprarla dal sito Me la porti a mano E te la pago Ho detto Cristina Ma ti pare che ti faccio Pagare la felpa Ti pare Questo dettaglio magari non so No dobbiamo far vedere Che siamo gentiluomini Ma bisogna anche far vedere Che Cristina Non è che ti scrive Ah ciao mi mandi la felpa Che la voglio Ti dice te la pago Sciappo Una gran signora Quindi io gli dico Lascia stare Assolutamente te la porto io La prossima volta che ci vediamo Ordino la felpa Perché noi non abbiamo un magazzino Quindi ordino la felpa Come la ordina Qualsiasi persona Che compra dal nostro sito Velocizza Ordino la felpa Per poi portarla a Cristina La felpa non arriva Contattiamo l'assistenza Del nostro sito di merchandise Diciamo Tosi La felpa non è mai arrivata Allora dicono Eh può essere che si sia persa Perché a volte spediscono Con le poste italiane Ve la rimandiamo E il giorno dopo che facciamo L'ordine per la felpa di Cristina Ci chiama L'Enrica Con cui eravamo vicine di casa Prima E abitavamo nello stesso palazzo Mi dice Sapete Che cosa aveva indosso Il vostro vicino di casa Mentre lavava la macchina Ebbene sì Aveva indosso La fottutissima felpa Dell'estetista cinica Ma ci rendiamo conto Ah allora Inquadriamo questo vicino Un vicino di casa Sulla cinquantina Un uomo adulto Non un ragazzetto Che noi abbiamo salutato Tutti i giorni Degli ultimi tre anni Perché era sempre fuori A fumarsi E che possiamo dire Si fumava le sigarette In balcone E ci arrivava il fumo In casa Ah ma non solo in balcone Lui entrava anche Nell'androne delle scale Tipo d'inverno Fumava lì dentro Perché fuori aveva freddo Questa è la persona Che scegliamo di descrivervi Quel giorno Lui stava lavando la macchina Con la felpa di rubrichette Era il primo giorno Che a Milano C'erano 32 gradi Diciamo anche perché Siamo sicuri che fosse Quella felpa lì Perché nel frattempo Non risultavano Spedite altre felpe Di quel colore Di quel modello Di quella taglia A quell'indirizzo A quell'indirizzo Che è il nostro Ma soprattutto Si spiegava come mai La felpa risultava consegnata Noi ci siamo sentiti Derubati Criminalizzati Una criminalità Nel nostro stesso palazzo Ex palazzo Ma sai quando si dice Che a Milano C'è tanta micro criminalità Eccola qui In tutto ciò Non abbiamo neanche raccontato A Cristina questa cosa Che sta aspettando Una felpa da tre mesi Che adesso le porto una felpa E lei mi dice Ma vaffanculo Che ci sono 40 gradi fuori Ormai giustamente Le daremo il te lo mare Le daremo il te lo mare Però Un vicino Perché cosa è successo Secondo me Il corriere ha buttato Dentro il pacco Perché sono un po' De deficienti a volte Che buttano i pacchi dentro Non tutti quelli Che vengono da noi Il vicino Ha visto il pacco Col nome nostro sopra E ha detto Questi due rincoglioniti Si sono trasferiti Questo diventa mio Ma lui non sapeva Che sotto casa nostra Abita ancora la sorella Di Edo In tutto ciò Lui ha la felpa addosso L'Enrica cosa fa Si ferma lì No 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 Lei come le migliori Iene Si è messa la telecamera Nel taschino della camicia Ed è andata a fargli Delle domande Ora questo video Purtroppo Non si vede Perché lei Aveva un seno prosperoso E quindi C'è la telecamera Che inquadra il cielo Però senti in sottofondo Lei che chiede A questo Per caso è arrivato Un pacco per mio fratello Era una felpa grigia Con una cocarda La cosa Gliela ha detto A lui Che stava lavando La macchina Con quella felpa addosso E lui le ha detto No no Mi fa Ah c'era un pacco Di un pacco piccolo Che era quello di una tazza Era una tazza Perché ci ha fregato Anche la tazza Lui si è inculato La felpa e la tazza E lui come tutti I peggiori criminali È tornato sulla scena Del crimine Si Perché cazzo Non ti puoi mettere Una felpa che hai rubato Nel luogo in cui L'hai rubata Sei scemo Cioè o la usi Per andare a fare Le scampagnate in montagna Oppure la usi in casa Come pigiama Ma neanche la stendi fuori Oppure ha un'idea migliore Non la rubi Non la rubi In partenza Non rubarla Guarda te se dobbiamo Dare lezioni di ruberie Un ladro era incoglionito In tutto ciò Che cosa fa Il vostro simpatico Edoardo Si ferma lì No 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 Ho subito scritto Alla proprietaria di casa Carissima proprietaria di casa Mi daresti per caso Il numero Del mio vicino di casa E lei mi dice Va bene te lo do Però prima devo chiedere a lui Se posso darti il numero Quindi lei chiede A questo tizio Se può dare il numero a me E dopo un po' La proprietaria mi manda il numero Quindi questo Deve aver detto Sì sì daglielo pure The face like the us The face like the us Ma in tutto ciò Noi non l'abbiamo ancora chiamato Però abbiamo il numero Volete che lo facciamo adesso? Alberto no Dovremmo Perché in tutto ciò Non abbiamo ancora avuto tempo di chiamarlo Abbiamo detto Ah lo chiamiamo quando abbiamo un attimo di tempo Effettivamente Katia Il tempo ce l'ha E quindi lo dobbiamo chiamare adesso? Tu te la senti? Io me la sento sempre Però qual è la nostra strategia Eh capito Noi non abbiamo prove Noi non abbiamo prove Se non la testimonianza Come non abbiamo prove? Abbiamo solo la testimonianza Cioè non possiamo Se lui dice no non l'ho rubata Cosa gli dice a quel punto? Mia sorella ti ha visto con quella felpa Vabbè se tu te la senti Chiamiamolo Allora sono un po' agitato Perché non mi sono mai confrontato Con un ladro Così Così sveglia Palesemente ladro Così sveglia Se solo ci fosse ancora Manuel Arcuri a Carabinieri Mamma mia Potremmo affidarle l'indagine Oppure anche Anche Di striscia la notizia Scusa Dai ce l'ho vedere Però lui gli fa in bene I tuoi servizi Noi abbiamo bisogno Secondo me a Milano C'è Staffelli Eh Staffelli è troppo big per noi Ci serve Un pino a bete Cos'è? Ma è quello che vengono Con la scamorza? Capitano Ventosa Capitano Ventosa Mi ammazza Che fa sempre i servizi Sui cancelli Che si aprono Con le radiofrequenze Veramente no Ma tu come fai a sapere queste cose? Perché io ogni tanto Lo vedo quando vado a casa dei miei Perché mio padre Guarda tutte le sere striscia Ma l'abbiamo già detta questa cosa Ma tu pensi che sia Nel mondo della pandemia No è che io ogni volta penso Ma non vive più Quei suoi genitori da 8 Ma io ce li ho salvati qui In test dei servizi In pratica l'ho visto Un paio di volte Fare un servizio su Tipo c'era un cancello di casa Che si apriva ogni tot E hanno scoperto Che era la radiofrequenza Di una Di un'azienda Allì vicino alla voluta Il 5G Capitano Ventosa Quando parlava di antenne Faceva vedere che Dalla sua ventosa Uscivano I canzoni L'Italia è il paese che amo Sì esatto Quindi che amo Basta Ma quindi io gli dico Ciao Senti sono Edoardo Sono Edoardo Abitavo vicino a casa tua Senti è successo Una cosa un po' strana Perché stavo aspettando Una felpa lì a casa Che non è mai arrivata Che non è mai arrivata Però mia sorella Mi ha detto che te l'ha vista addosso In amicizia Non è che l'hai presa tu per sbaglio Ma se gli dico Che ce l'ha già addosso Confermeresti davanti A una videocamera accesa Che Dai no Secondo me si deve fare in amicizia In amicizia Dalli l'impressione Che gli stai quasi facendo un favore Lui negherà Perché se è vero Capace di negare Nega di fronte all'evidenza Allora gli scusatemi Io avrò un piccolo momento Cazzo Cosa farai? Gli dirò scusami Leonardo Siamo stati vicini Adesso ti faccio il discorso Poi vediamo Siamo stati vicini per tre anni Ti ho salutato per tre anni Ho sentito per tre anni La merdosa Puzza della tua sigaretta Del cazzo Perché mi venivi a fumare davanti E adesso Quando me ne sto per andare Tu mi fotti Una fottutissima felpa Vado? Io mi cago addosso Io mi cago addosso È che io ho sempre paura Delle persone No è vero Perché si muove al di fuori Della legge Della legalità Io glielo dico anche Non ho voglia di andare Dal carabiniero a denunciarti Ma scusami Un furto è un furto È una questione di principio Ma cazzo Ma allora questo Può rubarti la macchina Che era lì Dentro al cancello Ho capito però Così O lì Cosa? Ho valore diverso Una macchina Ah quindi le felpe di rubricchetta E tu non gli dai valore Ma guarda in che situazione Mi deve mettere la gente Nella mente Chiamo col privato Sì Vado Vai Sto registrando Che bastardo Risponde la segreteria Telefondo Mi lascio un messaggio Sì Che bastardo Cosa faccio? Lo chiamo col normale? Secondo me però Sino risponde lo stesso Che palle Ce lo siamo bruciati Cazzo Lui è comunque genio Totale Ma lui sa di vivere Nella clandestinità E per questo che non risponde Sa che Le uniche chiamate Che riceverà Saranno delle forze Dell'ordine Prima o poi Per andarselo a prendere Che bastardo Lo richiami senza Privato Che bastardo di merda Questo non risponde Neanche adesso Mi è venuta in mente Una cosa Ciao Risponde la segreteria Secondo me Quando io ho chiesto Il suo numero Alla proprietaria Lui ha detto Ok ma dammi il suo E se l'ha salvato Ah Altra cosa Io adesso vedo Se mi chiama oggi o domani Ma se no Io lo dico alla proprietaria All'ex proprietaria Che era solita attaccare i cartelli Tipo non buttare il vetro nella plastica Ma che cazzo Scriveva dei cartelli per tutto Per la neve Il cancello che si blocca Io le chiedo esplicitamente Che metta un cartello Per i ladri Si sono verificati Episodio di furto aggravato Ad anni di Innocenti Ragazzi Stimati dalla comunità Attenzione C'è un ladro nel palazzo Interno 12 Cioè Perché Perché non dire che è un Ladro Vabbè mi sa che dobbiamo chiudere Come dobbiamo chiudere Abbiamo appena cominciato la puntata Abbiamo 200 cose da dire Abbiamo un'ora di girato Ma poi tu fai quelle puntate a 10 minuti Gliela lasciamo tutta quest'ora Va bene Dai non rompermi i coglioni Chiudiamola È finita Allora La nostra Katia Ruba Allora No tendenzialmente Però secondo me Sai cosa ha rubato una volta Vai Io ne ho un'altra E come fai a sapere che è un'altra Sentiamola In chiesa una volta Si è portata a casa Al libretto dei canti Per esercitarsi E poi cantare meglio Alla domenica Perché sai che c'è Quella gente che in chiesa Canta come se fosse Laura Polzini A San Siro Sì Osanna Cristo Signor Osanna E Secondo te La mia è più subdola Cioè la Katia Che ho in mente io Ha rubato una volta Al banco alimentare Del supermercato Perché Ha chiesto Al salumiere Prociutto Però si è fatta togliere Il grasso Gli ha chiesto Il cotto Ma poi se l'ha fatto Ritagliare sottile Quindi lui ha dovuto buttare via Quindi lui si era incazzato A un certo punto Ha iniziato giustamente A risponderle male Ma lei Non rendendosi conto Del suo essere rompicoglioni Ha solo visto Che è stata trattata male Allora cosa ha fatto Quando il salumiere È andato a prendere La mortadella Quella buona buona In fondo Non le serviva A sfregio Ha rubato una scamorza affumicata Ah così Sì sì In borsa Arrivata a casa L'ha buttata via No L'ha buttata via Non le serviva Voleva proprio fare il buco A quel salumiere lì Che sarà stato Redarguito a fine giornata Perché mancava merce Secondo voi Katia Ruba Quali sono i piccoli furti di Katia Ma anche quali sono i vostri Piccoli furti Perché secondo me Questo è un altro episodio però Perché tu ne hai da raccontare Io no Io non ho mai rubato Adesso sicuramente Dei ladri Non dire che abbiamo rubato Adesso sicuramente Dei ladri Ma Edo Non puoi Non puoi Edo in gioventù Non puoi Era un Era un Non puoi Non lo mettiamo Non lo mettiamo Fateci sapere nei commentini Qui sotto Su Youtube Se siete state aspettando Andate su Youtube Che cosa ha rubato Katia In che situazioni ruba L'allunno completi Con il numero Con i miei righe Katia tornerà Fette le settimane Per quest'estate Quindi Ci vediamo settimana prossima Con Katia Preparate Lasciate aperta la porta Preparate già il caffè Perché Katia arriva Vi asciuga E se ne va E au revoir Cantiamo una canzone Al nostro ladro personale E tre E quattro E ci E sei Ladro Ladro Sei un bastardo Non si ruba le persone Oneste Buone Quello che hai fatto È un brutto Misfatto Ora spero Che ti venga Pian pianino Tanta cacca Che esce Dal sederino Oh my god Oh my god Oh my god Tanta cacca Tanta cacca